e allora cambiamo cambiamo schermata così io non leggo più la chat e andiamo su scratch eccoci qua questo è un nuovo progetto così insomma andiamo a rivedere anche come utilizzare come partire da zero visto che ormai il progetto vecchio l'abbiamo pasticciato abbondantemente e vediamo un po come come lavorarci come fare questo qui è il progetto un nuovo progetto appena creato questo è quello che troviamo abbiamo uno sprite già preimpostato a disposizione del a disposizione di chi lo utilizza cosa ho detto disposizione insomma si già pre configurato da da scratch più qualche altra piccola cosa che eventualmente vi mostrerò nel caso che dovessimo incontrarla vediamo un pochino facciamo degli esempi su come andare a sfruttare utilizzare i blocchi di controllo per quello che riguarda le condizioni e eventualmente anche i cicli andiamo a riproporre un esempio che abbiamo già fatto i giorni scorsi facciamo camminare ciclicamente il nostro gattino quindi facciamo questo lavoro io dico quello che voglio realizzare lo esprimo a parole e poi vediamo come tradurlo nel linguaggio di scratch questo è questo è il flusso che dovrebbe esserci sempre ogni volta che si va a lavorare con con scratch vediamo un po attacco intanto la la chat ammesso che riesca a utilizzarla sul telefono cosa che quasi mai è possibile perché il telefono si spegne e nel momento in cui si spegne io perdo i messaggi una genialata bravi bravi che avete quelli che hanno fatto la chat l'app di twitch o forse io non la so usare forse bravo io che non la so usare bu allora vediamo un pochino intanto la apro e poi e poi si vede ok sono in chat molto bene allora stavamo dicendo io voglio far camminare il mio gattino ok abbiamo detto che a prescindere da quella che è la direzione per far camminare il gattino per far muovere uno sprite in linea retta dobbiamo utilizzare il comando fai passi quindi creo intanto la situazione iniziale situazione quando si clicca sulla bandierina verde e poi che faccio vado a fargli fare dei passi movimento fai passi abbiamo detto che questo comando fa fare un solo movimento grande quanto la somma del numero che viene inserito quindi fai un movimento grande 10 pixel grande quanto 10 passi e ottengo questo molto bene vado a vedere quello che ho creato e mi rendo subito conto che il gattino non ha un punto iniziale non ha un punto di partenza quindi se io vado a ricliccare la bandierina verde otterrò di nuovo la stessa azione ma ogni volta che io avvierò questo programma quello che otterrò sarà diverso perché non c'è un punto di partenza allora prima cosa mi devo rendere conto di questo fatto qui non c'è un punto di partenza allora mi serve un punto di partenza facciamoci le domande anche ad alta voce e proviamo a darci le risposte non c'è un punto di partenza ho bisogno se quello che voglio realizzare è un'animazione uguale ogni volta che io premo la bandierina verde ho bisogno di un punto di partenza e allora mettiamo il punto di partenza cioè diciamo al gattino quando io clicco la bandierina verde tu devi andare in questo punto vai in questo punto e poi fai delle cose e ogni volta che il programma si riavvia tu devi andare in quel punto così ogni volta che io lo avvio avvengono le stesse cose e quindi gli diciamo quando si clicca la bandierina verde vai a e gli diamo una posizione gli possiamo dire meno 200 e 0 0 perché la posizione della y in questo momento non ci interessa e quindi lo lasciamo al centro dello stage e meno 200 per metterlo un po a sinistra e poi fai passi ecco bandierina verde ogni volta che io premo la bandierina verde il gattino si trova sempre nella stessa posizione però intanto abbiamo risolto un problema prima ogni volta che premevo la bandierina verde il gattino si trova in una posizione diversa almeno ora si trova nella stessa posizione cosa accade però non ho nessuna animazione perché perché la lo stage i frame i frame dello stage i frame dell'animazione non vengono ricaricati perché io sto usando dei blocchi blu che fanno dei calcoli matematici e che dopo aver calcolato qual è la reale posizione del gattino me lo disegnano io gli dico vai all'inizio a x meno 200 y 0 e poi fai 10 passi cioè segui per quello che è il tuo asse 10 pixel spostati di 10 unità e quindi il gattino parte da meno 200 si sposta di 10 stando alla logica si dovrebbe trovare a meno 190 e infatti guardate qua x viene segnalato a meno 190 perché 200 meno 10 fa 190 o meglio scusate meno 200 più 10 fa meno 190 e quindi ecco qua ma non abbiamo l'animazione cosa abbiamo detto le volte scorse che per fare un animazione io devo fare il refresh dello stage quindi devo utilizzare dei blocchi che mi permettono di ripetere ripetere la stessa azione o delle azioni per più volte bisogna ripetere le azioni quindi vado a prendere dei blocchi che mi permettano di fare questo che sto dicendo e cioè i famosi cicli quindi prendiamo un ciclo qualunque prendiamo il ciclo di nuovo per sempre prendo il ciclo per sempre lo collego qui e gli metto dentro la possibilità di camminare quindi quali istruzioni sto dando al mio al mio codice al mio blocco gli sto dicendo quando io clicco la bandierina verde e avvio il gioco tu vai in quella posizione poi per sempre fai 10 passi quindi non fare 10 passi e basta falli per sempre fai 10 passi 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 o meglio fai un passo da 10 unità fai un passo da 10 unità fai un passo da 10 unità questo comando viene ripetuto ciclicamente e quindi ottengo un'animazione bandierina verde e il gattino si muove ora facciamolo andare un po più lento fai un passo quindi un movimento da un unità se io ora clicco la bandierina verde visto che gli ho dato un punto di partenza il gattino riprenderà sempre dallo stesso punto e quindi bandierina verde ottengo un animazione molto bene miglioriamo l'animazione andiamo a vedere i costumi del nostro gattino vediamo che il nostro gattino a due costumi un costume di lui che diciamo inizia un passo e il costume di lui che piega la gamba simulando il resto del movimento e il resto dell'azione se vi ricordate o se avete visto quello che abbiamo detto sui blocchi dell'aspetto possiamo andare a sfruttare possiamo andare a sfruttare questo alterna questa alternanza dei costumi per creare un'ulteriore animazione quindi non solo il gattino si muove sullo stage ieri ho riguardato un pezzo del video mi sono reso conto che quando io muovo le mani intendendo il movimento che fa lo sprite sullo stage in realtà vengo ripreso e quindi sono speculare quindi tutte le mie azioni a voi risultano al contrario quindi vabbè pace l'importante saperle queste cose quindi nel momento che il mio gattino si muove da sinistra verso destra ho un'animazione ma io gliene posso dare anche un'altra se io vado ad alternare vado ad alternare il movimento scusatemi il costume dello sprite posso simulare un'ulteriore animazione guardate se io faccio così tac 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 vedete li alterno li alterno sembra che il gattino stia camminando no compie un'azione e quindi compiendo l'azione ciao ciao a tutti ciao a chi c'è in chat vedo che c'è maria mas e adri quindi se io vado a fare così alterno i costumi ottengo un'animazione e quindi sono due animazioni la prima animazione che il gattino si sposta l'altra animazione che alternando i costumi sembra che stia camminando e come li alterniamo i costumi li alterniamo sfruttando i blocchi dell'aspetto quindi abbiamo detto che i blocchi dell'aspetto ci permettono di modificare il costume principalmente in due modi passa al costume e passa al costume seguente qui dobbiamo andare a dirgli il nome del costume che deve essere caricato e invece qui semplicemente gli diciamo passa a quello che c'è dopo ora siccome noi o raffaele ciao benvenuto raffaele siccome noi abbiamo solo due costumi in questo caso uno e due tranquillamente possiamo utilizzare il blocco passa al costume seguente perché non abbiamo nessun tipo di richiesta particolare da fare magari potremmo visto che qui stiamo definendo il punto di partenza del gattino dirgli ehi quando inizi il gioco assicurati di andare al costume 1 cioè questo qua di quiete e poi per ogni passo che fai guardate qua passa al costume seguente qui dentro dentro questo ciclo infinito o qualunque altro ciclo io ci posso mettere tutti tutti i blocchi che voglio perché il il ciclo inizia qui all'inito dove ho il mouse ora elabora matematicamente tutti i cicli che ci sono dentro a meno che non ci siano altri cicli perché ricordatevi i cicli possono stare dentro altri cicli ma questa è una cosa un po più complessa la vedremo dopo la vedremo tra tra diversi giorni lasciamo perdere questo per ora diciamo che tutti i blocchi che vengono messi dentro il ciclo vengono elaborati matematicamente quindi fai un passo la coordinata x si sposta passa al costume seguente il valore che contiene il numero corrente del costume viene aggiornato si aggiorna tutto è arrivata alla fine del ciclo noi vediamo il risultato di tutte le nostre elaborazioni e si risale su per rielaborarle e quindi otteniamo un'animazione adesso l'animazione non immaginatevi niente di che andrà sistemata però per farvi vedere che ragionando a parole e costruendo quello che stiamo dicendo otteniamo delle cose bandierina verde guardate fa schifo però intanto il gattino si sta muovendo non solo si muove da sinistra verso destra ma si muove ma alterna anche i suoi costumi quindi questa è una cosa buona ora guardiamo quello che abbiamo ottenuto analizziamo il risultato cerchiamo di capire cosa non va bene e proviamo a migliorarlo quindi di nuovo bandierina verde qual è il problema il problema è che il gattino va molto lentamente che a noi ci sta bene però il costume cambia troppo velocemente quindi sembra uno scemo che corre sul posto non ha senso sembra velocissimo però poi non si sposta allora che facciamo siccome a noi non ci va di farlo andare più veloce perché non vedremo la scena visto che lo spazio che abbiamo a disposizione è poco direi di rallentare l'alternanza del costume e quindi cosa potremmo fare per rallentare l'alternanza del costume possiamo provare appunto a farlo rallentare vediamo un pochino controllo attendi un po di tempo ora se lo facciamo attendere un secondo è tantissimo otteniamo esattamente l'opposto di quello che stiamo facendo invece che dirgli invece che farlo andare velocissimo lo vediamo andare super lento vedete tac 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 è lentissimo è troppo lento che poi in realtà per per la la velocità con cui si sta spostando insomma però vi faccio notare un'altra cosa andando qui a limitare il tempo il tempo all'interno del blocco quindi attendi un secondo noi ci stiamo muovendo anche più lentamente perché sia il blocco fai un passo sia il blocco passa al costume seguente vengono rallentati dal blocco che dice attendi un secondo quindi intanto diamogli un una velocità sensata magari mettiamo 0.2 che è successo non ha scritto 0.2 ok e così può andare 0.2 però vedete adesso il gattino si muove alterne costumi a una velocità ragionevole per per un'animazione che dobbiamo guardare però si muove troppo lentamente perché perché questo blocco viene rallentato da questo allora che facciamo aumentiamo lo spazio che percorre per ogni passo gli diciamo fai due passi troppo lento ancora facciamo fai cinque passi ok vedete così la nostra animazione è ragionevole per carità niente di che però abbiamo visto come pensare qualcosa realizzarlo con i blocchi creare un flusso vedere quello che abbiamo ottenuto intervenire per migliorare il risultato e correggere gli errori quindi questo è un sistema insomma e questo in realtà è il modo in cui dovreste lavorare sempre pensare pensare prima di realizzare una volta realizzato guardare quello che si è ottenuto dire a parole riuscire a esprimere a parole quello che non va bene e andare poi a intervenire sul sul codice se noi non siamo in grado di dire a parole di descrivere quello che è sbagliato quello che abbiamo realizzato di sbagliato non possiamo neanche andare a correggerlo infatti una cosa molto importante che che io faccio sempre con soprattutto ho un amico in particolare con cui faccio questa cosa però si può fare con tutti è nel momento in cui sia un problema di programmazione trovare qualcuno che ci ascolti a cui andare a spiegare qual è il nostro problema nella speranza che ci possa dare un consiglio e di solito accade che nel momento in cui noi spieghiamo a parole qual è il nostro problema troviamo nel momento stesso in cui lo stiamo spiegando la soluzione al problema è una cosa è una cosa che avviene un sacco di volte a me succede sempre questo perché perché mettendo in parole quello che non sta funzionando del nostro algoritmo perché per chi non lo sapesse questo è un algoritmo cioè è un flusso logico di azioni di sì di cose che devono avvenire una dopo l'altra riusciamo a trovare quello che è il problema non sempre però spesso all 1 2 3 4 5 6 7 8 0 lol ciao debugging maria sì 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 non è proprio debugging però sì una cosa molto simile comunque sicuramente questo è il flusso di pensiero che dovrebbe esserci nel momento in cui si realizza un programma ma soprattutto nel momento in cui lo si insegna quando qualcuno quando uno studente impara a utilizzare scratch deve fare deve imparare a fare questo ragionamento parentesi ed è per questo che secondo me scratch non andrebbe insegnato ai bambini troppo piccoli perché questo ragionamento è astratto e i bambini troppo piccoli l'astrazione non riescono a concepirla però sto ancora elaborando questo questo fatto qui poi quando sarà il caso far uscire un video dedicato all'argomento comunque questo è chiunque debba imparare quello che dovrebbe fare appunto chiunque debba imparare a lavorare in questo modo a scrivere del codice pensiero parole e scrittura del codice allora vediamo un pochino cerchiamo di inventarci qualche altra cosa sarebbe carino se chi ha voglia mi scrive in chat un'azione che possiamo far compiere al al nostro sprite un'azione qualunque e poi vediamo io intanto penso a qualcos'altro vediamo un pochino io voglio far rimbalzare il gatto su e giù come se fosse una pallina spostandolo spostando il suo asse in modo che vada avanti rimbalzando sul soffitto proviamo non ho idea di come si faccia lo faccio con voi provando ad analizzare spero che insomma spero che si possa fare con gli strumenti che abbiamo che abbiamo a disposizione allora passa il costume ok questo va bello buttiamo tutto allora abbiamo detto che all'avvio del programma il gattino io voglio che si trovi qua se io voglio che rimbalzi come una pallina nei due bordi quello in alto e quello in basso spostandosi di pochi gradi andando avanti così tun 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 la prima cosa che devo fare è capire come farlo rimbalzare in orizzontale in verticale ok quindi vediamo come farlo rimbalzare in verticale io prendo sempre il mio fedelissimo anzi si ciclo infinito prima vado sui movimenti e gli dico vai a e questo può essere un punto di partenza anzi lo faccio proprio iniziare dall'inizio e gli dico vai qua punto di partenza poi che deve fare voglio per adesso che rimbalzi sui due bordi quello di sopra e quello di sotto tun 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 poi penseremo a farlo spostare dividiamo dividiamo i i problemi in sotto problemi il nostro obiettivo è farlo rimbalzare come una pallina che si sposta in diagonale e arriva fino al bordo di destra però prima di tutto facciamolo rimbalzare in verticale su e giù su e giù su e giù quindi per sempre anche in questo caso gli diciamo per esempio se prima facevamo i passi muovendoci da sinistra verso destra ora gli diciamo fai dei passi e muoviti in alto e in basso come facciamo a dirgli muoviti in alto e in basso cambiandogli la direzione e quindi ecco qui punta in direzione vedete la freccetta in alto punta in direzione 0 quindi vai verso l'alto e qui di nuovo gli possiamo dire fai passi vediamo un pochino dove fai eccolo qui fai passi fai cinque passi vediamo cosa abbiamo ottenuto bandierina verde ok vedete il gattino cammina verso l'alto ma intanto ha ruotato ed è una cosa che io non voglio io non voglio che ruoti quindi gli dico usa stile di rotazione invece che sinistra destra gli dico non ruotare ed ecco qua ok perché non voglio che ruoti perché io voglio che poi rimbalzi in diagonale spostandosi da sinistra destra però rimbalzando sopra e quindi voglio che rimanga nella sua posizione iniziale ok quindi per adesso lo teniamo così che facciamo quindi lo facciamo muovere in verticale fai cinque passi anche 10 facciamola tanto ok perfetto fa così ora gli diciamo quando tocchi il bordo rimbalza quello che abbiamo visto ieri quindi rimbalza quando tocchi il bordo vediamo che succede bandierina verde a niente abbiamo già risolto ok abbiamo ottenuto esattamente quello che volevamo certo perché però perché parte così non dovrebbe partire storto infatti direzione 11 ma la direzione chi gliela sta cambiando punto in direzione 0 allora mettiamolo qua come punto di partenza perché la direzione dovremmo cambiarla noi non dovrebbe cambiarla lui vai a bandierina verde ecco questo è non so perché prima forse prima ve lo spiego subito prima cambiava la direzione automaticamente perché il gattino la coda del gattino toccava il bordo toccava questo bordo di sinistra ecco qua quindi abbiamo trovato il modo di farlo rimbalzare in verticale ok il gattino rimbalza su e giù su e giù ora io gli voglio dire spostati leggermente in diagonale non andare più in verticale non muoverti più perfettamente in verticale spostati leggermente in diagonale come facciamo a dire questo lui si muove in verticale perché il suo asse è un asse verticale perché si sta muovendo punta in direzione 0 e la direzione 0 è perfettamente parallela l'asse delle y visto che mi state scrivendo allora mangiare far fare di di su far fare dei supponi a dei suoni a far fare dei suoni poi gli facciamo fare dei suoni bellissima cosa sì c'è l'emoji del gattino va bene girare intorno a se stesso miriam ok far girare intorno a qualcosa ok ciao miriam ciao mi piam farlo girare intorno a se stessa comunque il mio discorso sui bambini piccoli non era chiaramente rivolto era un pensiero molto più grande generico mi è venuto in mente adesso come ho letto miriam che a cui mando un bacione quindi finiamo questo lavoro e poi faccio quello che mi avete scritto quindi abbiamo detto che il gattino si sposta sta rimbalzando sui due sui due bordi alto e basso ok io voglio che rimbalzi fino ad arrivare al bordo di destra quello che devo fare qual è siccome lui si muove sul suo asse e l'asse perfettamente verticale dovrò andare a modificare l'asse quindi che facciamo invece di dirgli punta in direzione 0 io gli dico punta in direzione 15 e quindi bandierina verde ottengo esattamente quello che volevo ottengo il gattino che si muove in diagonale si muove in diagonale rimbalza e come vedete rimbalza per tutto lo schermo ora se io qui vado a caricare costumi andiamo qui scegli un costume e carico una pallina ok bandierina verde ho una pallina che rimbalza per tutto lo schermo tun 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 vedete rimbalza per tutti i eccolo qua chiaramente possiamo andare a cambiare l'angolo che va a definire il suo asse e io gli posso dire vai a 10 ecco qui e quindi si sposterà in maniera più ripida oppure 45 gradi e quindi si sposterà vedete in perfetta diagonale quindi sempre pensare qualcosa definirlo a parole e realizzarlo ora facciamo questa cosa far fare dei suoni molto bene allora togliamo questo rimettiamo il costume del gattino e facciamolo miagolare non li abbiamo ancora visti i blocchi dei suoni ma sono abbastanza intuitivi molto semplicemente suono quando quando clicco la bandierina verde avvia riproduzione del suono alzo il volume così mi dite se si sente bandierina verde che si sente facciamo così ah scusate c'ho le cuffie allora vediamo un po dovrebbe sentirsi quindi in questo modo stiamo facendo miagolare il gatto però rendiamo la cosa più sfiziosa quindi vediamo un pochino che possiamo fare io dico usiamo usiamo i blocchi che abbiamo visto l'altra che abbiamo visto nei giorni scorsi quindi mettiamo un ciclo infinito così a furia di utilizzarlo vi entra in mente a livello per osmosi il modo in cui si utilizza questo ciclo infinito usiamo un ciclo infinito e gli diciamo se io sto se io premo lo spazio nella tastiera il gattino miagola e dice qualcosa dice mia o anche come fumetto oppure pensa mia o e fa il suono quindi cosa facciamo abbiamo detto se io sto premendo lo spazio della tastiera quindi se io sto facendo qualcosa se se è un controllo e un blocco che serve per fare un controllo se io sto premendo eccolo qua se allora se io sto facendo qualcosa allora fai quella cosa quindi se utilizziamo i sensori tasto tasto spazio premuto eccolo qui se tasto spazio premuto allora avvia riproduzione di suono mia o quindi avvio il gioco e nel momento in cui premo il tasto spazio il tasto spazio della tastiera si sente però attenzione vi siete resi conto che ha gracchiato un po perché se io lo tengo premuto fa questa roba non va bene allora che facciamo perché non va bene perché noi continuiamo per sempre per sempre a controllare se il tasto è stato premuto se il tasto è premuto e se il tasto è premuto avviamo questo suono però questo suono se viene avviato in contemporanea troppe volte gracchia giustamente allora utilizziamo questo suono riproduci e attendi la fine quindi bandierina verde vedete ogni volta che io premo la tastiera il gattino miagola alzo ancora di più il volume miagola ok quindi in questo modo riproduci e attendi la fine noi evitiamo che i suoni si vadano a sovrapporre se qui clicco ho la possibilità di andare a utilizzare i suoni che sono associati allo sprite del gattino o eventualmente di registrare dei suoni che scegliamo noi quindi vado su suoni e vedo così come per i costumi cosa abbiamo a disposizione abbiamo a disposizione appunto il gattino che miagola vediamo un pochino se abbiamo qualche altro suono interessante animali no ok ok qui c'è il cane la gallina vediamo un po' ok abbiamo messo questo ok questo suono no se è di un cos'è di un di una papera ok andiamo a vedere come possiamo sfruttarli come possiamo utilizzarli quindi abbiamo due suoni a disposizione e diciamo se io sto premendo il tasto spazio miagola anzi aggiungiamo un'altra cosa miagola e pensa che stai miagolando adesso miagola e otteniamo questa cosa bandierina verde premo il tasto spazio adesso miagola eccolo qua quindi prima il pensiero e poi il suono perché ho messo prima il pensiero perché altrimenti avremmo visto avremmo sentito prima il suono e poi siccome abbiamo usato il blocco attendi la fine il fumetto sarebbe apparso quando il suono avrebbe finito di essere eseguito quindi la giusta sequenza dovrebbe essere questo per quelli che sono i nostri fini ma non è detto che siano per forza questi ok quindi questo è questa è un'idea stop aggiungiamo aggiungiamo qualcosa di più complesso tolgo questo blocco e gli dico controllo se allora altrimenti questo blocco è più complesso perché dice se io sto premendo un tasto della tastiera se io sto facendo un'azione fai qualcosa altrimenti se non la sto facendo fai un'altra azione quindi noi cosa gli diciamo adesso se io sto premendo il tasto della tastiera miagola se io non lo sto premendo se io non lo sto premendo pensa adesso miagolo quindi che succede il ciclo così per come l'abbiamo scritto togliamo questa roba così vediamo questo blocco che è nuovo il ciclo così per come l'abbiamo scritto fa questo basta leggerlo in realtà per sempre quindi per sempre c'è questo controllo e dice stai premendo il tasto della tastiera sì allora miagola altrimenti controllo ciclo 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 stai premendo il tasto della tastiera no allora cioè quindi se il tasto spazio è premuto è premuto no altrimenti se non è premuto esegui questo blocco quindi io lo avvio bandierina verde vedete senza che io faccia niente mani in vista lui pensa adesso miagolo ma quando io premo il pulsante il tasto della tastiera lui miagola miagola e scompare il fumetto io alzo il dito dalla tastiera e ricompare il fumetto se quell'azione si sta quella condizione è vera fai qualcosa altrimenti fai qualcos'altro certo è poco reattivo perché perché qui pensa per due secondi io gli scrivo pensa per 0,1 secondi e diventa tutto molto più veloce vedete bandierina verde adesso miagolo ogni volta nel momento in cui io tocco il pulsante vedete miagola lo alzo e riprende miagola ecco qua quindi torniamo stop quindi che ho fatto il mio problema era che nel momento in cui io cliccavo col dito lo spazio della tastiera bisognasse aspettare due secondi per far scomparire il fumetto benissimo siccome il fumetto è costante perché siamo dentro un ciclo infinito io diminuisco il tempo per mostrare ogni fumetto invece che due secondi ogni fumetto viene mostrato per 0,1 secondi 0,1 in questo modo sarà super reattivo nel momento in cui io tocco il pulsante della tastiera ok vediamo un pochino mi avete detto far girare il gattino su se stesso leggo bene gira intorno a se stesso quindi girare su se stesso immagino che Miriam intendesse questo girare farlo girare su se stesso se non ho capito bene quello che che intendeva Miriam scrivetemelo così facciamo anche quello che veniva veniva richiesto quindi butto ciò e gli diciamo come facciamo a farlo girare su se stesso abbiamo detto che il senso l'orientamento del nostro sprite viene definito dal suo asse ok quindi il suo asse è sempre definito da quella famosa direzione punta in direzione scusate mi sta venendo un prurito incredibile al naso non capisco quindi punta in direzione abbiamo a disposizione questi blocchi qui per modificare la direzione del gattino ruota ruota poi punta verso punta in direzione e poi abbiamo a disposizione la direzione corrente del gattino abbiamo tutti questi blocchi abbiamo tutti questi blocchi a disposizione più chiaramente tutti gli altri che abbiamo visto per far ruotare il gattino su se stesso possiamo utilizzare uno di questi blocchi chiaramente montato con altri cosa si potrebbe utilizzare se io voglio far ruotare il gattino in senso orario per esempio posso utilizzare il blocco ruota che altro non fa che appunto far ruotare il gattino attenzione ogni blocco blu compie una e una sola azione quindi bandierina verde vedete neanche si percepisce ah scusate sarebbe anche il caso dargli un punto di partenza quindi all'avvio del gioco punta in direzione a 90 e poi ruota di 15 gradi eccolo qua neanche si percepisce altro particolare importante se vogliamo far ruotare il gattino non si percepisce perché se vogliamo far ruotare il gattino dobbiamo dargli uno stile di rotazione siccome prima gli abbiamo detto non ruotare ora gli diciamo stile di rotazione sinistra destra vediamo che succede no neanche può ruotare ok sì quindi può ruotare questo è lo stile di rotazione che dobbiamo scegliere vedete le cose si fanno anche provando io non mi ricordo tutto a memoria non posso ricordarmi tutto a memoria penso a quello che voglio realizzare lo realizzo vedo il risultato elaboro quello che ottengo e provo a correggerlo questo è il flusso diciamo di base che si deve utilizzare per creare qualcosa quindi usa stile di rotazione può ruotare punta in direzione 90 e ruota di 15 gradi attenzione ruota di 15 gradi come vedete io ho fatto un solo movimento ma se io voglio che il gattino ruoti ruoti sempre su se stesso ovviamente metto quell'azione dentro un ciclo e quindi per sempre dov'è per sempre ruota di 15 gradi ed ecco qua bandierina verde e il gattino ruota su se stesso come è stato richiesto ruota 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 su se stesso ok quindi questa è una possibilità un'altra possibilità è quella di farlo ruotare in senso anti-orario e quindi ruota nell'altro senso no? in senso anti-orario vediamo un'altra cosa interessante che possiamo fare invece di farlo ruotare di 15 gradi possiamo farlo ruotare di 10 gradi e quindi ruoterà più lentamente e se io volessi fargli fare un solo giro completo una sola rotazione cosa possiamo fare per fargli fare una sola rotazione guardate io gli dico o meglio gli diciamo ruota di 10 gradi se io gli faccio fare una sola rotazione questo fa così 10 10 10 10 fino ad arrivare a 90 sono 9 volte ok? da 0 a 90 sono 9 volte che viene richiamato quel blocco fino a qui sono 18 volte 27 e 36 volte perché in effetti il giro completo sono 360 gradi quindi se io gli voglio far fare un solo giro a non farlo girare all'infinito tolgo questo e gli dico ripeti 36 volte ruota in direzione ruota di 10 gradi e quindi in questo modo ottengo una sola rotazione vedete il gattino fa un solo giro e si ferma un solo giro perché io ho calcolato quali sono i gradi dell'angolo giro 360 quando poi si dice che la matematica non serve la matematica serve sempre 360 gradi un angolo completo un giro completo io gli dico semplicemente per una questione di calcolo perché mi viene più facile calcolarlo ruota di 10 gradi se il giro completo sono 360 e io faccio 10 gradi per volta per farlo tutto dovrò ripeterlo 36 volte e quindi ottengo il sistema per fare un giro completo e se io volessi fare in un altro modo vediamo come possiamo fare in un altro modo eccolo qua utilizziamo il blocco ripeti fino a quando quindi questo forse non lo so se funziona proviamo quindi io gli dico metti questo qui questo lo metti qui punta ripeti fino a quando gli diciamo finché allora per fare questo per utilizzare questo blocco la cosa che si potrebbe utilizzare la cosa che si potrebbe fare è ripeti fino a quando il il valore della rotazione la direzione dello sprite non è tornata a 90 solo che partendo da 90 questo blocco non parte ve lo faccio vedere uguale 90 sempre che non si non si azeri adesso proviamo ve l'ho detto sto inventando insieme a voi direzione vediamo un pochino faccio un po' di pulizia e gli diciamo ripeti fino a quando direzione è uguale a 90 in teoria non dovrebbe neanche partire infatti se clicco non parte se io qui gli do invece 91 per esempio punta in direzione 91 bandierina verde ecco ecco non lo prende benissimo quindi ok andiamo a capire cosa fa 91 ah certo 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 perché io lo sto ok ok perfetto ho capito come fare adesso vi descrivo quello che ho fatto vi descrivo quello che ho visto quindi metto in parole il problema e poi andiamo a trovare la soluzione io gli ho detto punta da 90 parti da 90 parti da 91 perché perché la direzione la direzione che io ogni volta cambio di 10 per volta se parte da 90 o da 91 quello che è si sposta fino a ritornare qua 0 e ad essere resettata e quindi si riparte si riparte 0 90 180 questo viene considerato meno 90 ma si può anche scrivere 2 70 e questo 0 o 3 60 il fatto qual è che se io lo faccio partire da 91 ovviamente viene incrementato di lo faccio partire da 91 perché perché se io gli dico parti da 90 e poi ripeti finché direzione è uguale a 90 direzione già dall'inizio è già uguale a 90 e quindi non ripeterà mai questo blocco ok quindi che facciamo punta in direzione abbiamo detto punta in direzione a 90 io gli ho detto se parti da 91 se parti da 91 non arriverò mai a farlo fermare perché la direzione non sarà mai 90 perché io ogni volta vado ad aumentare il valore di direzione di 10 e quindi non varrà mai 90 perché 91 più 10 più 10 più 10 più 10 fino a tornare a 360 e poi riazzerarsi non varrà mai 90 varrà sempre 91 però io gli posso dire per esempio punta in direzione 91 e ruota di 9 gradi in questo modo siccome parto da 91 e ruoto di 9 gradi so che arriverò a far valere direzione 90 e in questo modo infatti no non ottengo niente perché non arrivo a farlo valere 90 91 9 debaghiamo facciamo quello che abbiamo detto prima facciamo un debug quindi che faccio prendo il blocco ripeti neanche ripeti una volta tolgo il ciclo e vedo se parto da 91 e lo faccio spostare di 9 gradi ottengo 100 quindi perché non arriva a valere 90 proviamo a farlo spostare parte da 91 fa un ciclo 50 vale 55 io gliene faccio fare 37 continua quindi parte da 91 gradi vediamo un po' punta in direzione 91 ripeti 37 volte ruota di 9 gradi ok facciamoglielo allora ah giustamente certo certo non ha senso io se prima aumentavo di 10 gradi e erano 36 giustamente diviso 9 il numero va a salire mi sembra anche mi sembra anche una cosa sensata quindi 82 arriviamo a 40 ripetizioni vabbè stiamo debaggando stiamo andando a leggere tutti quanti i valori per capire dove sta l'errore e in effetti arriviamo sempre a 91 certo perché va ah certo assolutamente va bene allora arriva sempre a raggiungere il punto di partenza effettivamente e allora questo per adesso lo butto e andiamo a scrivere una regola diversa sempre trovo il problema lo dico a parole e proviamo a vedere se si riesce a trovare una soluzione direzione proviamo a scrivere maggiore non so neanche questo se funziona maggiore direzione maggiore ora se la direzione diventa maggiore di 90 però anche in questo caso non farà mai neanche un giro o meglio ne farà uno e poi si bloccherà 360 proviamo a cambiare invece di dirgli 90 gli diciamo gli diciamo 360 360 400 450 proviamo così 450 niente non non si muove il tentativo che sto facendo è assolutamente una cioffecca perché giustamente perché in realtà giustamente perché in questo nuovo scratch la direzione si riazzera ogni volta che parte quindi come faccio io a fargli fare un solo giro utilizzando questo blocco ripeti fino a quando ripeti fino a quando senza usare variabili chiaramente ripeti fino a quando direzione perché semplicemente potremmo fargli calcolare dei cicli però non va bene io quindi li posso dire forse questa cosa che ho voluto fare non si può fare senza utilizzare altri blocchi di supporto se qualcuno ha qualche idea me la scrive in chat altrimenti probabilmente tutto questo che voglio fare col blocco ripeti fino a quando non si può fare non si può fare per questo motivo non si può fare perché il punto di partenza è già 90 eh sì però se io lo faccio partire da 91 e lo faccio avanzare di 9 eh no sempre la solita cosa fa sempre un pezzo di giro non sarà mai perché la variabile direzione si incrementa fino a resettarsi quindi non c'è modo purtroppo purtroppo è una scelta di scratch questa variabile direzione quando raggiunge l'apice non continua a 360 361 eccetera eccetera ma vale zero vale di nuovo zero quindi andiamo a ritrovare i valori che avevamo in partenza e quindi il controllo che io volevo fare non si può fare in nessun modo ci sono dei metodi alternativi che si possono utilizzare senza nessun problema per esempio creare noi una variabile che viene incrementata e quindi controllare quella per carità niente di complesso da fare però con gli strumenti che abbiamo a disposizione quello che mi è venuto in mente non lo possiamo fare spero che non ci siate rimasti troppo male io speravo che si potesse fare e invece non si può fare se qualcuno ha in mente come risolvere questo problema visto che la variabile direzione si riazzera me lo scriva nei commenti sarei ben felice di vedere qualche soluzione a cui non sto pensando chiaramente se mi dite di utilizzare una variabile esterna ci arrivo da solo a fare questo comunque questo esempio è servito a vedere come provare a realizzare qualcosa fare il famoso debug che abbiamo visto prima e niente valutare se qualcosa è realizzabile in questo caso ahimè non era realizzabile quello che volevo fare pace per far girare come mi avete scritto prima il gattino attorno a un oggetto probabilmente servirebbero delle servirebbero delle variabili esterne perché dobbiamo fargli fare una curva e quindi mi servono delle variabili esterne per fare dei calcoli quindi quello che mi avete chiesto per adesso non credo che si possa fare però tanto direi che per oggi abbiamo visto anche abbiamo visto insomma un po' di esempi è passata un'ora quindi ci possiamo anche fermare mi spiace per questo esempio che non è andato a buon fine però pace abbiamo visto come debuggare come andare a vedere i vari valori come analizzare quelli che sono i flussi i vari problemi è come creare è come creare delle piccole animazioni utilizzando cicli e controlli quindi molto bene io mi blocco qui domani continuiamo domani magari andiamo a introdurre il blocco dei sensori che permette di interagire con l'utente in questo modo facciamo una sorta di botta e risposta prendendo l'informazione salvata magari nella variabile e andiamo a sfruttare ancora i controlli se se allora per fare pratica magari andando a creare un piccolo quiz o qualcosa del genere molto bene io vi saluto passo all'altra schermata per salutarvi vediamo un pochino eccoci qua e niente e ci ci vediamo domani mi spiace per questo intoppo finale ma non non ne avevo la più pallida idea bene a domani buona serata a tutti sì Grazie a tutti.